Partecipato da giovani e anziani, l'incontro è organizzato a Taranto dalla locale Azione Cattolica presso la sede dell'Università in Città Vecchia. Per un nuovo umanesimo, la comunità cristiana in uscita. La traccia del dibattito coordinato dal Presidente nazionale, Matteo Trufelli. Il ruolo ed i doveri dei laici nell'affiancare l'azione della Chiesa volta a recuperare una giusta ed incisiva forma di umanesimo attraverso il messaggio della fede. Le conclusioni sono state tratte da Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, di rientro dalla partecipazione all'incontro Svimez sulla condizione del mezzogiorno. Perché è necessaria una proposta vera. Oggi si discuteva in vista del convegno di Firenze, in Cristo un nuovo umanesimo. La fede risponde all'attesa di speranza che c'è in ciascuno di noi. Ci vuole però qualcuno che a questo punto susciti l'esperienza della fede e allo stesso tempo sia attento alle sfide che la realtà ci pone. Ecco, nella presentazione dello Svimez abbiamo visto questo più 0,1. Un progresso è vero, si chiudono sette anni di recessione, però il divario con il resto dell'Italia continua presente e continua alto.